Si è aperta a Palazzo Lascaris la nuova edizione di Ragazzi in Aula, progetto di Open Government che consente ai giovani delle scuole superiori di entrare in Consiglio regionale e conoscere i processi decisionali dell'Assemblea legislativa. Lo sport è il tema scelto per il progetto di quest'anno che si concluderà venerdì 6 maggio in aula. Tra le novità di quest'edizione l'utilizzo di strumenti online di collaborazione e coprogettazione, un'occasione per sperimentare il nuovo paradigma di partecipazione alla base dei cosiddetti media civici.